Alec, qual è il tuo bilancio dopo queste prime due giornate di campionato? Sì, abbiamo fatto due gare questo inizio stagione, è normale che pensavo che magari va meglio, però è bene che non abbiamo ancora perso e ora dobbiamo tornare a vincere le partite, non sempre pareggiare, però c'è una piccola positiva che non abbiamo perso le partite, quindi ora le prossime partite dobbiamo fare meglio, preparare meglio e provare a vincere queste partite. Contro la Salernitana hai colpito la traversa, poi però hai trovato il gol contro la Cremonese portando in vantaggio la tua squadra. Sì, sono felice che ho fatto questo gran gol, che mi porta tanta fiducia e spero che continuo così, e quindi è bene che quando inizio fai il gol così, spero che continuo così le prossime partite, quindi ora non penso di fermare, quindi do sempre bene per la squadra, lavoro tutti insieme e così facciamo bene i risultati. La fiducia del mister Tedino, cosa significa per te, considerato che il tuo allenatore spende sempre parole di elogio nei tuoi confronti? Sì, quando la mister ti dà fiducia è importante per il giocatore, quindi mi trovo bene sul trequartista, quindi ho un po' di più libertà sul gioco, quindi mi posso muovere ovunque, questo è importante per me perché così mi piace quello ruolo e provo di fare sempre meglio, quindi però ripeto, di fiducia di mister è fondamentale. Adesso c'è la parentesi con la nazionale, poi però al rientro dovrai preparare insieme alla squadra la trasferta di Foggia. Sì, ora c'è una piccola pausa che vado a nazionale, spero che faccio pure bene là, quindi sono pure due gare importante, quindi dopo quando torno faccio subito testa sulla Foggia e prepariamola bene e speriamo che portiamo tre punti a casa. Contro la Cremonese sono arrivati gli applausi dei tifosi al momento del gol e cosa significa per te avere ricevuto l'apprezzamento da parte del tuo pubblico? Sì, significa che penso che i tifosi hanno visto che magari ho fatto un gran gol e mi hanno dato questi applausi che forse ho meritato, quindi però peccato che non abbiamo vinto la partita e spero che questo sia importante e che si deve vincere, non solo che fare gol, quindi pensavo che se faccio gol magari in secondo tempo e vincevamo questa partita, però dai allora prepariamo bene per prossima e prendiamo tre punti.